Sono Sergio Carozzi della Camera di Comercio di Genova e sono qui per presentare un progetto legato alla ristorazione Genova Liguria Gourmet che si intitola Vivi l'esperienza sostenibile. Questo progetto che ha già due anni di esperienza è partito molti anni fa attraverso un credo che la Camera di Comercio ha sempre riconosciuto dai primi anni 90, quello della ricerca, della certificazione di tutti i prodotti di qualità. Il territorio è stato quindi sondato, verificato, sono stati certificati prodotti a marchio comunitario, parlo del vino, dell'olio, del basilico genovese, sono stati certificati sempre dal sistema camerale, quindi attraverso disciplinari e sistemi di controllo, altri prodotti a marchio collettivo geografico per arrivare poi al riconoscimento di quella che è la ristorazione di qualità. Genova Gourmet prima, Liguria Gourmet dopo, quindi Genova, Liguria Gourmet, tutta la ristorazione che in qualche modo si riconosce nel piatto tradizionale e quindi realizzano i propri ristoranti, i piatti della tradizione, con prodotti del territorio, quindi olio DOP, basilico DOP è quando si deve fare un pesto, all'interno del ristorante si trovano i vini del nostro territorio e quindi si ha sempre una tracciabilità totale su questo, ma soprattutto un chilometro zero. Quindi tutti quei piccoli prodotti che abbiamo via via certificato sono utilizzati dai ristoratori per le loro preparazioni.